Ciao a tutti. Dobbiamo dire finalmente la verità sul mess. La prima cosa che vi chiedo è di fare circolare quanto più possibile questo video. Fatelo girare nelle chat, nei gruppi Facebook, su Instagram, su WhatsApp, su Telegram, su Signal. Ma voi lo sapete cos'è il mess? Da qualche tempo a questa parte circola un video di Gianluigi Paragone che dice a tutti attenti c'è un colpo di stato in atto, un colpo di stato perché Gualtieri lunedì andrà a filmare il mess. Ora questo video è stato fatto il 20 marzo, quindi il lunedì di cui parla Gianluigi Paragone di questo golpe contro i cittadini sarebbe il 23 marzo. Ebbene, siamo ad aprile inoltrato e il 23 marzo non è stato firmato nessun mess. Il mess. Prima enorme cazzata che ha detto Gianluigi Paragone e per la quale dovrebbe chiedere scusa e per la quale tutti quelli che hanno fatto girare questo video pieno di cazzate dovrebbero chiedere scusa. Ma voi sapete cos'è veramente il mess e chi lo ha firmato? Voi sapete che il mess è in vigore da otto anni? Sì, avete capito bene, altro che Conte e Gualtieri. Il mess è in vigore da otto anni. E adesso vi dico chi è che ha voluto il mess. Il 24-25 marzo del 2011, più di nove anni fa, il Consiglio Europeo decide di cambiare il trattato e di introdurre una misura che chiameremo mess, che prevede una rigorosa, severa condizionalità. Chi c'era a quel Consiglio Europeo? Chi ha votato per l'Italia quella misura? Un rappresentante del governo Berlusconi e quindi un rappresentante della Lega, del PDL e di Giorgia Meloni, che era ministra di quel governo. È chiaro chi ha votato il mess? La concessione di una qualsiasi assistenza finanziaria sarà sottoposta a una rigorosa condizionalità. E questo il mess che toglie sovranità all'Italia e che è stato voluto nel 2011. Votato per l'Italia in Europa da un rappresentante del governo Berlusconi, Lega Meloni. Berlusconi, Lega Meloni. Loro hanno votato un provvedimento dove è previsto una rigorosa condizionalità. E per farlo hanno dovuto modificare l'articolo 136 del trattato. Quindi lo hanno voluto fortemente. L'Italia, se è entrata nella possibilità di avere il mess, lo deve a un voto europeo del rappresentante del governo Berlusconi, Lega Meloni. Quante volte lo devo ripetere prima che lo impariate. E in Italia, quando è stato ratificato, c'era il governo Monti, che era sostenuto dal centro-destra, sempre di Berlusconi, di cui faceva parte la Meloni, e dal centro-sinistra. Al voto del Parlamento italiano, che è del luglio 2012, che ratifica definitivamente il mess, ha cambiato idea la Lega, la Lega ha votato no. Il Movimento 5 Stelle però non era in Parlamento. Quindi quando qualcuno dice il Movimento 5 Stelle vuole il mess, è in malafede, caro Paragone. Ma Paragone in quegli anni cosa aveva fatto? Lo ricordiamo un attimo? Paragone era stato il direttore del quotidiano La Padania, pagato con soldi pubblici, con soldi di tutti voi. Questi soldi pubblici sono andati in tasca a Gianluigi Paragone, che era il direttore del quotidiano della Lega. Forse per questo non ricorda chi è che in Europa ha votato il mess davvero, e cerca di accusare Conte, cerca di accusare i 5 Stelle del mess. E invece lo hanno votato quelli che prima gli hanno dato una direzione di un quotidiano pagato con soldi pubblici, pagato con soldi pubblici, pagato con soldi pubblici, Gianluigi Paragone. E poi gli hanno dato la vicedirezione di Rai 1, e poi la vicedirezione di Rai 2, e poi tanti programmi sulla Rai. E la Rai è pagata col canone, con soldi pubblici, soldi pubblici, soldi pubblici, all'alfiere della Lega Gianluigi Paragone. La Lega che ricordo sosteneva quel governo che in Europa ha voluto il mess. Ma cosa c'entra Conte? Ma cosa c'entra il Movimento 5 Stelle? Che è l'unico, l'unica forza politica di tutto l'arco costituzionale che non ha mai votato il mess? Quindi il mess esiste da 9 anni ed è in vigore da 8 anni, e quindi chi ti dice oggi andranno a firmare il mess è in malafede, e dice il falso, perché il mess esiste già, e ho già detto chi lo ha votato. Tutti, tranne il Movimento 5 Stelle. Chiaro Gianluigi Paragone? No. Voi mi direte, ma se il mess esiste da 8-9 anni, ma perché qualcuno oggi dice no al mess? Ve lo spiego io. Perché che cosa possiamo fare noi in Europa? Possiamo chiedere il mess e quindi metterci il cappio al collo degli altri paesi europei, oppure possiamo non chiederlo. E il Movimento 5 Stelle è sempre stato contro, e il Movimento 5 Stelle e il Presidente Conte sono sempre stati contro. Mess no. Il mess è uno strumento che abbiamo ripetuto, assolutamente inadeguato. Inoltre noi ci siamo opposti a dei cambiamenti in peggio del mess, che erano in programma in un eurogruppo di qualche settimana fa, noi abbiamo fatto la nostra azione politica, e noi, noi, noi abbiamo impedito che si facessero dei cambiamenti in peggio del mess. È chiaro? Quindi chi va a raccontare che il Movimento 5 Stelle, o che il governo Conte, o che noi in Europa abbiamo votato il mess, è passabile di querela, perché dice il falso. È chiaro? No. Vi prego, fate girare questo video, perché troppe cazzate ancora girano sul mess, e tanta gente in buona fede è convinta che il Movimento 5 Stelle abbia voluto, o abbia votato, o abbia cercato di votare il mess. Esattamente il contrario. Tutti gli altri, chi prima o chi poi, hanno votato il mess, l'unica forza che non l'ha mai votato è il Movimento 5 Stelle. Fate girare questo video nei gruppi, nelle chat, su WhatsApp, dove credete opportuno, perché è importante far circolare e diffondere la verità e combattere le fake news e le cazzate dette da qualcuno che magari è in mala fede.